La rivincita di Natale è un film del 2004 diretto da Pupi Avati, che l'ho anche scritto con la collaborazione di Maurizio Ridolfi. Il film è il sequel del film Regano di Natale, sempre di Pupi Avati, del 1986. Sono passati 18 anni tra un film e l'altro, e sono passati 17 anni nella storia di questa epopea, se vogliamo, in due film, ambientati appunto a ridosso del Natale. Tanti anni, tanti anni da quel colpo di scena finale, in quel film di Avati, che tanto mi aveva convinto, la prima volta che lo vidi, e ancora di più, in realtà, per tanti versi, mi ha convinto di recente quando l'ho rivisto. Quel colpo di scena col tradimento, quel colpo di scena con quella mano sfortunata, che ha di fatto piegato il personaggio di Franco, ovvero sia il personaggio interpretato da Diego Abattantuono. Ma Franco si è rialzato da quel tavolo, ha proseguito la sua esistenza e, sebbene avesse perso tutto quanto, è riuscito, col tempo, dopo la separazione dalla moglie e dopo aver appunto perso la sua catena di cinema, è riuscito addirittura a rieccellere in quel campo che sembrava ormai lontano per lui. E' riuscito a rieccellere nell'ambito cinematografico e adesso ha addirittura una catena di sale cinematografiche. E' quindi un uomo di successo. Un uomo di successo che non ha mai dimenticato, però, quella notte, con quell'avvocato interpretato dal magnifico Carlo delle Piane. Franco, però, una sera incontra un dottore, un oncologo, che gli racconta di essere a conoscenza di quella serata. Questo perché uno dei suoi pazienti recenti è stato l'amico Lele, interpretato da Alessandro Haber. Lele non se la passa bene, ha un tumore ai polmoni, è stato operato per questo, ha perso un polmone, quindi, e chissà cosa sarà di lui in futuro. Questo è quindi il motore che spinge Franco a tornare sui suoi passi, a voler rivivere quella notte, questa volta, magari, con un esito diverso. Franco non solo si ricongiungerà con Lele, che ormai non ha più nulla da perdere, essenzialmente, ma si ricongiungerà anche con gli altri amici, ovvero sia con Stefano e col personaggio di Ugo, rispettivamente George Eastman e Gianni Cavina. rimetterà insieme a questa squadra e, soprattutto, grazie ad Ugo, che verrà inviato, volutamente, appunto, a cercare l'avvocato, che, ovviamente, adesso si aspetta qualsiasi colpaccio, metterà in moto tutto ciò che porterà ad una nuova partita. Una nuova partita, di nuovo, sotto Natale, che viserà questa volta, però, tutti i partecipanti, in qualche modo, molto più esposti di quanto sono stati la volta precedente. È un film, questo, che pone maggiormente l'accento su certe cose che, in realtà, non venivano, forse, così tanto sottolineate o enfatizzate, per certi versi, nel film precedente. È un film, la rivincita di Natale, che ripropone, quindi, quanto era già stato visto in precedenza, ma questa volta Franco non si fide di nessuno e, infatti, cercherà non soltanto di gabbare chi l'ha gabbato, ma, al tempo stesso, cercherà di essere sicuro delle persone di cui si circonda. È un film, questo, che si basa, in realtà, molto di più sulla diffidenza. Non soltanto la diffidenza verso questo avversario temibile, l'avvocato, appunto, ma, in realtà, a tutto tondo. In questo film, il giocatore ad azzardo, forse più esperto, non si fida più di nessuno e mette la prova, anche se, magari, dovrebbe essere assolutamente sicuro delle persone con cui sta giocando. È un film, questo, di tradimenti, così come era un finale di tradimenti quello visto in regalo di Natale. È un film, questo, in cui c'è una molto più grande disillusione, secondo me, verso le persone che fanno parte di questo mondo, del gioco d'azzardo, appunto, ma, in generale, forse, verso questo mondo a tutto tondo. È un mondo in cui si avverte maggiore solitudine al termine di questo film. È un mondo in cui il più furbo dei furbi riesce a scamparla, nonostante rischi molto. C'è sempre il rischio in questo film. c'è sempre il rischio ed è sempre un rischio calcolato in qualche modo, perché così deve essere, perché questo è l'unico modo per farcela. in questo scenario da thriller, essenzialmente, che, secondo me, seppur inferiore a tutto tondo rispetto al film precedente, comunque, vale assolutamente la pena vedere. non soltanto non soltanto per rivivere in parte le emozioni vissute all'epoca, con la prima visione di Regalo di Natale, non soltanto per poter vedere di nuovo questo fantastico thriller ambientato di un tavolo da gioco, di fatto, ma ancora di più per vedere come i personaggi si sono evoluti nel tempo, dopo quella fatidica notte. Avremo modo di vedere chi alla fine è rimasto coerente con se stesso, sempre, avremo modo di vedere chi è caduto in disgrazia, chi si è lasciato rovinare, in realtà, e avremo modo di scoprire, alla fine, se si impara dai propri errori e, alla fine, si riesce di venire il più furbo tra i furbi. Bello, credo di poter consigliare questo film, La rivincita di Natale, è stata una piacevole appendice non necessaria rispetto al film precedente, ma, nonostante non abbia avuto bisogno di una prosecuzione di questa storia, sono contento di averla vista, sono contento di aver rivisto questi personaggi e la loro evoluzione, anche se alcune di queste mi hanno un po' stretto il cuore, lo ammetto, e quindi credo di poter consigliare questo film, La rivincita di Natale, sicuramente dopo aver visto il precedente Regalo di Natale.